Buona a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Spiceciapotente Oggi siamo in un nuovo vlog Allora ragazzi oggi siamo sul video sul computer Ragazzi è una grandissima richiesta ragazzi Perché io pure a me è stata una sorpresa Perché ragazzi Me l'hanno dato il computer quando a fine capodanno credo Non lo so precisamente la data Però oggi giocheremo un giocatore Non vi voglio spoilerare A dopo Ok ragazzi Siamo su Archinator Allora ragazzi Questo qui E' stato Volevo farlo pure nel vecchio computer Però si è rotto Però ragazzi andiamo a giocare Eta Io ne faccio 9 praticamente ragazzi Giuro questa volta quindi 9 9 Oh fra 99 No fra Aspettate raga Ok ragazzi Giochiamo ragazzi poi Non è che questi video saranno spesso Però Saranno A volte Cioè Spesso saranno ragazzi Non è che saranno tutti i giorni Però spesso Allora ragazzi Allora ragazzi Indoviniamo Il nostro caro Slatan Che è il mio Che è il mio idolo del calcio Diciamo È di nazionità italiana No Però non me la dire proprio perché Fra 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 Non risponde Raga Crashate il gioco Fra Aspettate raga Ok ragazzi Siamo ancora qui Con archi di torre Ancora Di merda Di quest'artinetto Che crasha sempre Non so il perché Mi sono messo a giocare ieri Che c'ho da Da tre giorni Però ragazzi Questo video È durato L'ho fatto durare Ci è voluto Un'ora Due ore Non lo so Perché raga È stato difficile Il primo video sul computer Lo volevo perfetto Allora Mettiamo per la La seconda volta Nove E vediamo se si crasha No Ok Andiamo a vedere Se si fa Ok ragazzi È di nazionalità italiana No È reale Sì No No Non è reale È uno sportivo Sì Ancora a calcio Sì Viene dall'argentina No Dalla svezia Veramente A parte che non voglio Sentire proprio Nella svezia Gioca per una squadra italiana No Giocava con due A che fare con il Real Madrid No Il suo personaggio È uno degli autori Del triplete Non lo so Non lo so raga Perché io non c'ero Quando C'è Ha mai giocato nel Barcellona Sì Parla del Wrestling Sul web No Viene dal Brasile No Ha cent'anni In una lampana Lampada Ha vissuto per cent'anni In una lampada No È svedese Ve l'ha indovinato raga È svedese Vabbè raga Era facile Sì Era facile raga Questo era facile Ok ragazzi Ok ragazzi Proviamo ad indovinare Martin Gariz Il suo personaggio È famoso Per la sua Grande abilità Nel calcio No No Non lo so Se sta a giocare Martin Gariz A Martin Gariz Se crasha Crasha Esiste davvero Sì No Martin Gariz Con il mondo A che fare Con il mondo Dello sport No È maschio Sì Con la musica Sì Ha più di 35 anni Non lo so Io che ne so Canti in inglese Non lo so Io sono È americano Sì Sì Credo di sì È un attore No Non è un attore Martin Gariz È famoso Per la sua voce Probabilmente No A fare Una band Sì Sì Credo di sì La voce unice No Non lo so No Runduce un programma Su Rai 3 Raga Scusate Ho dato una testata È un Barrista Un bar Terrista No Credo Vive nel Lazio No È chitarrista No Non credo È famoso Sì Sì Il suo personaggio Ha partecipato Alla seconda guerra mondiale No Ok ragazzi Il suo personaggio Suono Il basso No È un DJ Sì Indosso una maschera Non lo so Non lo so Raga Alla regione Scandivana No Fa parte Di un gruppo Di due persone Raga Io non ho mai visto È europeo Sì Credo Sì Sì Europeo Indovinato A so A chi Sta pensando Ma non mi sembra Sia adatto ai bambini Io 9 anni Ti ho messo C'è Martingariz Non è adatto ai bambini Boh È un po' difficile A chi potremmo pensare Archinator È nato in Italia No Credo Non lo so Tu sei nato in Italia Archinator No Non lo so Credo Esiste davvero No È un gioco Cammina su due gambe No Non ce l'ha neanche le gambe Super giornaggio Ha condotto Non so leggere Ha condotto Stasera Tutta è possibile No E i capelli neri Sì Perché Mi spunto Un capello Qui Raga Quindi sì Lavoro in televisione No Sul computer Sto giocando Mi viene Il far west No Si Veste di blu Sì Archinator Raga Voglio tre like Non ce la faccio Voglio subito tre like Subito Proprio subito Dovete metterlo Sì C'è Raga È impossibile È impossibile C'è C'è È impossibile Raga Non ci credo Ok ragazzi Proviamo Che possiamo provare Ragazzi Perché è una cosa Difficile Indovinato Già 98 5 33 Mamma mia Raga Mamma mia Archinita È già Indovinato Io Viense Avere Il primo Che merda Raga Mia roba Comunque ragazzi Spero Che questo Video Vi sa Se non Mi piace Anche Qualche Commento Ovviamente E se non siete Ancora Iscrivetevi E noi Ci vediamo Al prossimo Video Bella Ragazzi Una testata Ci vuole Sempre